La Costituzione dà dei riferimenti minimi per l'autonomia, indicando l'autonomia alla Regione, Trentino Alto Adige, e indicando che la Regione si suddivide in due province autonome che ne sono elemento costitutivo. Questo significa che laddove si pensa di variare lo statuto, di modificare e innovare lo statuto, troviamo questi punti fermi, una Regione formata da due province autonome e, d'altra parte, l'ancoraggio del De Gasperi Gruber riguarda la dimensione regionale, cioè riguarda il Trentino in quanto coinvolge la dimensione regionale. Questo significa che pensare di innovare lo statuto va fatto nell'ambito di questa cornice. Grazie.